Musica Occhio ai giornali di oggi lunedì 22 giugno 2015 Ben ritrovati, buongiorno a tutti carissimi telespettatori di Fano TV Sul canale 17 come sempre la mattina si apre le 7.30 in diretta con i giornali Tra poco li vedremo Adesso però diamo uno sguardo al calendario e poi al tempo Oggi è San Paolino di Nola, Vescovo Il sole è sorto alle 5.25, tramonterà alle 20.54 Guardate che bella immagine, guardate che bei colori vivaci, forti Cielo pulito, terzo con poche nuvole E anche freschino, sono 16 gradi Soprattutto la sera Andiamo a vedere che cosa ci aspetta oggi dal punto di vista meteorologico Allora oggi avremo un cielo sereno, un po' nuvoloso Transito di qualche lieve velatura Qualche addensamento invece più consistente di nuvole Se era possibile sulle montagne Nelle ore più calde della giornata Le temperature sono in aumento Vediamo la giornata di domani, martedì 23 di giugno Cielo sereno, poco nuvoloso Con precipitazioni sparse sul settore settentrionale A partire dalla serata Temperature in aumento Allora, probabili condizioni di tempo instabile Nella giornata di mercoledì Con temperature in diminuzione A seguire un miglioramento del tempo sulle marche Allora, leggiamo adesso i giornali Cominciamo dal resto del Carlino Il resto del Carlino Il nodo della sicurezza E la notizia che i ladri sono andati a casa di una consigliera E del capo della procura Palumbo ad Ancona Allora, la notte da brividi della consigliera Il titolo Ladri in casa Lei non si accorge Topi d'appartamento anche nell'abitazione del procuratore Palumbo Il capo della polizia dice in casa Non tengo cose di valore Sono già venuti anni fa Mentre la capogruppo mi hanno preso 100 euro e due smartphone E domani devo partire per Londra La consigliera è Roberta Crescentini Che abita nella zona Loreto a Pesaro E la capogruppo consigliare di minoranza del Comune di Pesaro Che appunto ha raccontato al giornale Che le hanno rubato 100 euro due smartphone Per fortuna mi hanno tolto la sim dai telefonini Gettandola in giardino insieme alla carta di credito e ai documenti E domani io parto per Londra per lavoro Insomma, senza documenti e carta di credito Avrei dovuto rinunciare alla partenza Anche il procuratore della Repubblica, dicevo Ha avuto la visita dei ladri nella sua casa di Ancona Li aveva già avuti in casa una decina di anni fa Ci sono tornati la settimana scorsa rubando qualche oggetto di argenteria Mentre di legalità si è parlato ieri in chiusura Al festival Passaggi a Fano Ieri il presidente della regione Luca Ceriscioli Ha parlato prima della lezione di Nando dalla Chiesa Poi ci sono due pagine Una che si riferisce al caso dell'acido Lucia Nibali Varani non tentò di uccidere Lucia Luca Varani non ha mai cercato di uccidere Lucia Nibali Con la gas della cucina Lo scrivono i suoi difensori Gli avvocati Roberto Brunelli e Francesco Maisano Nel ricorso di 50 pagine presentato in corte di Cassazione Per chiedere l'annullamento della sentenza di condanna a 20 anni di carcere Firmata nel febbraio scorso dalla corte d'appello di Ancona Mentre l'altra pagina si occupa del delitto di Lucia Bellucci Oggi è il giorno della verità Si tiene infatti a partire dalle 9 e mezza di questa mattina Davanti alla corte di Assisi di Trento La seconda udienza del processo d'appello nei confronti di Vittorio Ciccolini L'avvocato veronese di 47 anni Che la sera del 9 agosto 2013 Ha coltellato a morte l'ex finanzata Lucia Bellucci 31enne di Pergola Responsabile di un centro benessere a Madonna di Campiglio E ricordiamo che Poi c'è stato invece Ciccolini E' stato condannato in primo grado a 30 anni Ceriscioli Torriamo alla politica regionale Ceriscioli La giunta è un incubo Siamo sulla pagina nazionale del resto del cardino Roma soccorre il PD marchigiano Oggi arriva la lista degli assessori La decisione nella notte Interviene anche Guerini Dunque i due casi spinosi sono Teresa Lambertucci Che è stata bocciata dalla sua stessa federazione di Macerata E che appunto non entrerebbe in giunta Sciapichetti verso la presidenza invece del Consiglio E quindi quella che un tempo era di Solazzi E fuori invece c'è anche fuori dalla giunta Anche l'ex assessore Marcolini Il vice segretario nazionale del PD E' intervenuto Dicevo Ha preso in mano questa patata bollente La riunione marchigiana di ieri è annullata All'ultimo minuto La terza donna andrebbe a questo punto All'Udici E quindi a Loretta Bravi Apriamo adesso il Corriere Adriatico C'è stata una serata Una serata Evento in memoria Di Del Monaco C'è stato anche il capo della polizia Al teatro Rossini di Pesaro Per l'esibizione della banda musicale del Corpo Applausi a De Blasis E Grollo Dunque il teatro Rossini ha fatto il pieno di autorità In platea anche Florez Il figlio del compianto cantante Del Monaco Questa splendida cornice Che ha ospitato Questa serata Evento per il centenario Della nascita del grande tenore Mario Del Monaco Scomparso 33 anni fa Il concerto è stato eseguito Appunto come dicevo Dalla banda musicale della polizia Di Stato Sopra Quindi a questo punto Essendoci affano Scusate a Pesaro Il capo della polizia E visti insomma I problemini che ci sono In particolare sulle sedi Della questura di Pesaro Quella di Urbino Ecco I giornalisti hanno fatto qualche domanda Sul futuro di queste due strutture Ebbene sul commissariato di Urbino Dice il prefetto Ci sarà il prefetto Pansa Ci sarà presto la nuova sede Più incertezze invece Sul trasferimento Della questura di Pesaro Non convince la sede Dell'ex intendenza Di finanza Poi Sempre dalle pagine Del Corriere Del Corriere Adriatico Superstrada Oggi Da oggi Chiusa Per lavori Da oggi La vecchia Flaminia A Fossombrone Nel tratto Piancerretto Calmazzo Torna ai tempi Di 30 anni fa Poiché dovrà sopportare Tutto il traffico Della superstrada Chiusa per lavoro di manutenzione Nella carreggiata In direzione Mare Collina Non si sa Quanto tempo Sarà Realmente necessario Oltre L'iniziale Mese previsto Il rifacimento Del manto stradale È indispensabile Poi toccherà invece Ai viadotti Sotto Sempre dal Corriere Sanità E da Fossombrone Sanità Nessuna risposta Al nostro progetto La cooperativa Articolo 32 Segnala un caso Di tacco urgente Negata Dall'Asur Proposti Turni Pomeridiani E serali La pagina di Fano Invece si occupa Di un furto Un furto Avvenuto Nella sede Acli Di Sant'Andrea In Villis Hanno rubato Prosciutti E caramelle Poi la banda È fuggita Con tutta la carne Del congelatore Ad accorgersi Del furto È stato Sabato mattina Un socio La scientifica Non trova Impronte Diversi malviventi Entrati Al terzo Tentativo Sotto shock I soci Appunto Dell'Acli Mentre I controlli Controlli Molto serrati Di tutte le forze Dell'ordine Sabato sera Nella zona Del Lido Affano Frequentatissima Soprattutto nel fine Settimana Da giovani E giovanissimi Da tempo Infatti Si ripetono Episodi Di vandalismo E teppismo Ad opera Di baby gang Che coinvolgono I beni pubblici Le proprietà private In alcuni casi Sono sfociati Anche in aggressioni Andiamo Sull'altra pagina Del Corriere D'Ancona Per questa notizia Che vi abbiamo Già dato Sul furto In casa Del procuratore Manfredi Palumbo Caccia A una gang Di ragazzini Furto in casa Del procuratore I ladri Forse Sono Minorenni E caccia Dunque A questa banda Che ha colpito A casa del magistrato Nella mattinata Di mercoledì Un blitz Clamoroso Nell'appartamento Di una figura Eminente Che al tempo stesso Fulminio Durato una manciata Di minuti Sufficienti Per portare via Monili d'oro E argenteria Per un valore Di qualche migliaia Di euro Hanno aspettato Che nell'appartamento Di Ancona In cui vivono appunto Il capo e sua moglie Il capo della procura E sua moglie Non ci fosse nessuno E poi hanno fatto Irruzione La pagina di Pesaro Del messaggero Anche qui In evidenza Il fatto Che Oggi Inizia L'era Ceriscioli Oggi infatti Si insedia il consiglio Il neo governatore Annuncerà la giunta Dopo una notte Di trattative Lambertucci Contestata Esce E al suo posto Sciapichetti O Micucci Pressing Sull'Udc Per quanto riguarda La donna Nuova questura Valuterò Il capo della polizia Pansa A Pesaro Qui lo vedete Nella foto Con il questore Di Pesaro Rubino Poi Signoretti Palazzo Perticari Ancora mesi Con le impalcature L'imprenditore Mi scuso Per i disagi Ma ristrutturare Ha i suoi tempi Andiamo Sempre Restiamo sempre Sul Sul messaggero Per le altre due pagine Prima di Chiudere La nostra Rassegna stampa Sempre da Pesaro Palazzo Perticari Resterà Ingabbiata La vedete in questa fotografia Palazzo Perticari Lungo corso 11 settembre Ancora per altri mesi L'imprenditore Di San Italia Ci stiamo Mettendo il massimo impegno Ma per ristrutturare Come dicevo Serve Serve del tempo Poi da oggi Torna Sul litorale Adriatico L'operazione Mare Sicuro Della Capitaneria Di Porto Di Di Pesaro Non solo Di Pesaro San Bartolo Balducci Riflette Il presidente Rivendica I risultati Ottenuti Sotto la sua gestione La gestione Dell'ente Parco Poi l'Unione Dei Comuni Ricci Dice Cambieremo Il regolamento Dopo la bocciatura Del Viminale Sullo statuto Il sindaco Viene convocato In commissione Dice Se c'è qualcosa Da cambiare Nel regolamento Lo faremo Chiudiamo Ancora Con L'altra pagina Di Pesaro E provincia Del messaggero Anche qui Nuova questura Dobbiamo ragionarci Il capo della polizia Pesaro Dice Un risposto All'invito Del questore Per parlare Del territorio Elogia i risultati Considerando L'incoraggianti In arrivo Per l'estate Rinforzi Del reparto Di prevenzione E crimine Poi Sempre Sul messaggero Polo Della Cantieristica Il comune Concede La proroga A Marina Gruppo Per l'intervento Siamo a Fano Intervento Nell'area del porto Polemici Invece I 5 stelle Poi Diocesi Programmazione All'insegna Della cultura Due eventi culturali Nel giro di pochi giorni Hanno colto Nel segno Del mondo Cattolico Fanese Si è infatti Conclusa Con successo Di pubblico Persino inatteso La proiezione Del cortometraggio Imperfetti Sconosciuti E poi C'è L'altro Appuntamento Che riguarda Invece Il ritorno Nel santuario Santa Maria Del Ponte Metauro Del dipinto Di Sant'Antonio Da Padova Fresco Di restauro Direi Che possiamo Fermarci Di qui C'era Sul Resto del carino Invece Ci torniamo Quindi un attimo Sulla visita Del capo Della polizia Un titolo Un po' diverso Rispetto a quelli Che abbiamo letto Sugli altri due quotidiani La doccia fredda Del prefetto Non è aria Di nuove questure Ma vorrei Soffermarmi Su queste parole Che pubblica Il carino Questa mattina A Pesaro Il prefetto Punta A questo scenario E dice Dobbiamo andare avanti E andare verso Lo svuotamento Degli uffici E la presenza Maggiore Di uomini E macchine Nelle strade Capisco Che questo Non piaccia A tanti A tanti agenti Ma se Una denuncia Si può fare anche Online Attraverso internet Quindi senza andare Lì in ufficio Si potenzi Questa possibilità Sulla presenza Invece dell'esercito Il capo Della polizia Dice Ovvio che preferisco Pagare un agente Formato per il controllo Del territorio Piuttosto che un soldato Ma finché ci sarà La carenza di uomini Benvengano Anche i soldati E' tutto Buona giornata Ci vediamo stasera Alle 20 e 30 Con occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti